La partita di Roma è una partita che interessa anche noi, visto anche i sondaggi che abbiamo su Roma che sono molto incoraggianti e credo che questo sia il sintomo del fatto che il fallimento della politica a Roma, e mi permetto di dire, il fallimento soprattutto di una parte politica perché negli ultimi vent'anni, come citava qualcuno di voi in studio, il colore politico di Roma, tolta la parentesi alle mani, è sempre stato lo stesso Però sembra sia stata abbastanza devastante la parentesi alle mani, vabbè, se la ricorda parentopo di questa roba qui Ma guardi, però anche la vicenda di Mafia Capitale, che il PD in qualche modo ha cercato di buttare mediaticamente tutta sull'amministrazione precedente poi ha dimostrato che coinvolgesse direttamente anche degli eletti del PD di questa legislatura Non Marino, non Marino No, 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 non Marino, ci mancherebbe altro, ma contestasse anche fatti avvenuti durante l'amministrazione Marino E poi il teatrino che il PD ha dato sulla difesa e non difesa di Marino è stato sconcertante Perché Marino fino a quest'estate era difeso da Renzi, da Orfini, da tutta la classe dirigente del PD E quest'estate le cose peggiori erano già uscite, vedi Mafia Capitale E poi dalla gaff del Papa in avanti invece Marino è diventato il nemico pubblico numero uno Sperava in un buon governo, il buon governo non c'era perché Marino se ne andava via Ecco, quindi insomma il PD anche su questo un po' di chiarezza dovrebbe farla Sul nome di Marchini non gli dico questo, noi dobbiamo capire prima di tutto se siamo ancora con Berlusconi o no Perché faremo una manifestazione a Bologna domenica Una manifestazione che ha il compito di abbattere o comunque dare una spallata al governo Renzi Visto che è considerato che in Parlamento la spallata non gliela darà mai nessuno E l'abbiamo visto con le maggioranze trasversali che si sono create sulle riforme e quant'altro Quindi noi cercheremo di portare in piazza tanta gente per dare una spallata al governo di Renzi e del Partito Democratico E siamo curiosi di vedere se Forza Italia e Berlusconi ci saranno Ho capito, scusate, allora Morinari, se Berlusconi viene a Bologna la Lega e Forza Italia vanno insieme Se Berlusconi non viene a Bologna vuol dire che non vuole dare le spallate al governo Renzi E allora ognuno per la sua strada? Me lo dica perché questo è importante oggi Allora, il discorso se Berlusconi viene a Bologna vuol dire che Forza Italia è interessata a fare un ragionamento con la Lega Per portare il cambiamento in questo paese e di conseguenza anche nella città di Roma Se Forza Italia non viene evidentemente la situazione si complica perché abbiamo degli obiettivi diversi E quindi ognuno va per sé? Quindi voi farete una lista con un vostro candidato autonomo che non è Marchini Questa può essere un'ipotesi, c'è ancora tanto tempo e si vedrà cosa succede Ma questa sicuramente può essere un'ipotesi